nel video precedente abbiamo già configurato sketchup con queste caselle se non lo avete ancora fatto guardatelo e rendete sketchup uguale al mio per capire come si tracciano delle linee parallele quindi a x y e z prendiamo lo strumento matita partiamo subito dal centro di sketchup cliccando sul centro dove si intersecano la linea rossa verde e blu andiamo a prendere l'origine il punto 0 partendo quindi dal centro se scorriamo sulla linea rossa corrisponderà al nostro asse x della stampante 3d cliccando genero una linea partendo sempre dal centro se mi muovo in linea con l'asse verde questo qua sarà il mio asse y se sempre dal centro vado verso l'alto traccio una linea sull'asse z ora invece proviamo a ripetere lo stesso esercizio andando però a prendere un punto a caso nello spazio prendendo sempre la matita e cliccando al centro comincio la mia linea la muovo nello stesso orientamento del mio asse rosso che corrisponde a x e clicco parto poi sempre dallo stesso punto in cui sono partito prima e mi muovo in modo parallelo all'asse verde si genera sempre una linea guida e questo è quello che mi garantisce il fatto che la linea sarà perpendicolare parto sempre dall'origine vado verso l'alto vedete sempre la linea guida blu se mi muovo molto distante non sarà più blu questa invece è la linea guida che crea un effetto calamita andiamo con il terzo esercizio tutto per farvi capire come sono fatti gli assi ovvero l'orientamento del nostro spazio 3d selezioniamo con control a le nostre tre linee le incolliamo in un punto a caso poi con il tasto destro clicchiamo sopra i nostri tre oggetti e li invertiamo lungo un asse voglio invertirli lungo l'asse rosso che poi è x e sovrappongo i vertici faccio sempre control v incollo il nostro oggetto sempre in un punto a caso ma lo inverto in un asse diverso la nostra y asse verde control v inverto sempre lungo l'ultimo asse che non abbiamo ancora fatto che è quello blu che è l'asse z chiudiamo il nostro oggetto con le linee clicchiamo sull'estremità che è rimasta sola andiamo oltre e andiamo sempre paralleli all'asse verde esco dalla selezione clicco su questo vertice e seguo l'asse rosso prendo questo vertice e seguo l'asse blu ora il solido è diventato in 3d ed è totalmente chiuso basta tracciare questa linea e automaticamente tutte le facce si riempiono questo perché sono perfettamente a 90 gradi se hai imparato qualcosa da questa guida e da questo semplicissimo tutorial metti in pratica e comincia a realizzare un modello 3d fatto con linee fatto con linee a 90 gradi fai qualche disegno fai un po di esperienza prova ad esportare questi oggetti in stl e da inserirli nel tuo slicer WIKI MAKER Grazie a tutti